Salve a tutti amici, in questo video parliamo di un problema noto su alcuni videogames durante la riproduzione degli stessi, ovvero sia in avvio sia anche dopo i titoli di crediti d'inizio, può darsi che il gioco ritorni a icona oppure non riesca ad andare a schermontero. Quando ci sono questi problemi, se avete installato TeamViewer sul PC può darsi che sia lui responsabile. Quindi, che cosa fare? Semplicemente chiudetelo prima dell'esecuzione dei videogiochi. TeamViewer è questo programmino qui, questi quando la trovate qua in basso a destra, io l'ho già chiuso, quindi fate tasto destro sull'icona in basso a destra di TeamViewer e fate Esci. Questo potrebbe risolvere dei problemi in alcuni giochi tipo Fair Cry 4, e ce ne sono altri che adesso non ricordo, però quando ho avuto dei problemi di avvio dove c'era un avvio a tutto schermo ma subito ritornava ad icona, è sempre stato colpa di TeamViewer 9. Altra risoluzione di questi problemi, per esempio, crash all'avvio o strane cose, potrebbe essere quella di provare ad avviare il gioco come amministratore, anche qui risolve qualche problema. Se non è questo c'è poco da fare, o aspettate una patch del videogioco più aggiornata, o aspettate un driver più aggiornato della scheda video, sarebbe meglio entrambi. Sapete che ogni tanto ci sono questi problemi, i sviluppatori ultimamente stanno facendo un sacco di casini vari con le ottimizzazioni per tutte le varie schede video, e quindi quando uno, quando un altro, i problemi qualcuno ce li ha sempre sugli ultimi videogiochi, ma anche quelli vecchi, perché no? Quindi ricordatevi, se avete TeamViewer, di chiuderlo prima di videogiocare per vedere se era quello il problema. Un saluto a tutti.